Nardo Di Pace torna ad avere un suo sindaco. Dopo una lunga fase di commissariamento nel piccolo centro delle serre vibonesi, ieri si è votato per ripristinare un'amministrazione democraticamente eletta. A vincere la sfida di D3 è stato Antonio De Masi, esponente del PD sulle posizioni del parlamentare Bruno Censore. La sua lista, Nardo Di Pace, riparte e ha ottenuto 477 voti per il 56,7%, vincendo il confronto con Piero Tassone, sostenuto dall'ex primo cittadino romano Loielo, la cui lista, Uniti, Pernardo Di Pace, si è fermata a 359 voti, pari al 42,7%. La terza concorrente, Pernardo Di Pace, lista capeggiata da Giuseppina Tonietta Carè, ha ottenuto appena 5 voti. Le schede nulle sono state 13, quelle bianche 7, alle urne si sono recati 861 elettori. Il comune esce così fuori da un doppio commissariamento, conseguente a una serie di operazioni condotte dalla direzione distrettuale antimafia e dalla procura ordinaria, nelle quali è rimasto coinvolto a suo tempo l'ex primo cittadino romano Loielo, insieme ad altri esponenti della sua amministrazione. Antonio De Masi era già stato sindaco sino al 2007, quando aveva perso le elezioni proprio contro Romano Loielo, schierato invece con il centrodestra. Le due amministrazioni, guidate da Loielo, sono state sciolte per infiltrazioni mafiose. Il comune delle sere vibonesi usciva proprio da un ultimo commissariamento per mafia e Romano Loielo è stato dichiarato incandidabile in via definitiva. Ad Antonio De Masi spetta ora il compito di riportare uno dei comuni più poveri d'Italia alla normalità. Il rieletto sindaco ha garantito la ferma volontà di non perdere tempo dichiarando ad avere già la giunta comunale pronta.